Noi di Luxury Group distribuiamo in esclusivo per il mercato italiano i prodotti della Estelon che vengono dall'Estonia da Tallinn, poi il marchio olandese Metaxas, alle mie spalle vedete l'integrato Icarus e abbiamo fatto rinascere il marchio Cello, il mitico marchio Cello poi facciamo Italia, Europa e il resto del mondo, quindi Emirati Arabi Uniti, sistemi multi-room domestici e professionali. Al prossimo Monocoin 2019 Estelon presenterà il nuovo modello Forza che si mette nel mercato tra la X-Diamond che vedete alle mie spalle e la X-Stream che sarebbe il top di gamma, prezzo al pubblico circa 120.000 euro. Sarà pilotata sì con tutta elettronica e Vitus Audio, quindi con i monofonici top di gamma e il preamplificatore 2T. E poi saranno esposte anche sicuramente le YB alle nostre spalle, il modello piccolino e l'X-Diamond che abbiamo qui che è il 3V pluripremiato con medio e woofer in ceramica e tweeter in diamante. Il punto vendita si trattiamo audio e video e siamo come video rivenditori ufficiali del marchio LEV, rivenditori Bang e Olufsen e poi abbiamo i classici marchi high-end quindi Gold Note, Nime, Focal, Rega, i soliti marchi diciamo poi trovate tutto quanto sul sito. Abbiamo anche un discreto giro di prodotti d'occasione con garanzia un anno e tutto quanto.